Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi rispondiamo a una domanda che in tanti in tema di Fanta Europeo mi state facendo Su quali app si gioca al Fanta Calcio Europeo, al Fanta Europeo? Le vediamo in questo video E ci tengo subito a specificare che questo video non è sponsorizzato da nessuna delle app che troverei dall'interno di questo video Ma semplicemente quel che vado a fare è un servizio di informazione per voi per andare a fare la scelta migliore possibile in tema di Fanta Europeo Per supportare questo video ti chiedo un semplice like che ricordo è gratuito Altra cosa gratuita, l'iscrizione a questo canale soprattutto se vuoi vincere il Fanta Europeo e anche il Fanta Calcio Perché su questo canale parliamo solo di Fanta Calcio e vinciamo anche il Fanta Calcio Quindi cosa da fare? Sicuramente iscriversi e attivare la campanella delle notifiche per non perdersi i contenuti che usciranno su questo canale Ricordo poi che sono aperti gli abbonamenti al canale, si parte da 1,99€ e ci sono tanti vantaggi Attenzione però, in tema di Fanta Calcio Europeo per gli abbonati livello pro che si abboneranno in questo periodo Ci sarà un piccolo regalo, ovvero la possibilità di avere una rosa al listone costruita secondo le regole della tua Lega Secondo le regole del tuo Fanta Calcio al listone Una piccola offerta, una piccola promo per un livello di abbonamento che ti dà tanti vantaggi Tra cui la possibilità di fare un Fanta Calcio con me con Hasta Live la prossima stagione Prima però di fare adesso i nomi delle app, altro piccolo disclaimer Sappiamo bene che dal 2021, dallo scorso europeo, Fanta Calcio.it lancia la sua app chiamata Fanta Europeo Sicuramente la andrà a lanciare anche quest'anno E nei prossimi giorni ne andiamo a parlare nel dettaglio quando ci saranno tutte le novità, tutte le ufficialità E ci faremo anche un video dedicato Però non troverete l'app di Fanta Calcio.it all'interno di questo video perché non è il classico Fanta Calcio Che intendiamo ma è una competizione a premi, un concorso a premi E non un vero Fanta Calcio in quanto si basa più sui pronostici che sul Fanta Calcio classico La prima app che vado a presentarvi all'interno di questo video se volete giocare al Fanta Europeo è Fanta Club Si tratta di un'applicazione molto smart che vi permette di giocare in leghe a listone ma anche in leghe ad asta Con la possibilità di fare proprio l'asta anche sull'app Con una modalità simile all'asta dal vivo caratterizzata da un banditore automatico e con i pulsanti rilancia e passa E' molto semplice da utilizzare, soprattutto è fluida e bello incollaudata Visto che rappresenta una solida alternativa al leghe Fanta Calcio anche per quanto riguarda il classico Fanta Calcio sulla Serie A La sua caratteristica migliore è rappresentata dalle infinite funzionalità e opzioni regolamentari Di cui ci si può avvalere se si decide di giocare con questa applicazione Dal punto di vista delle competizioni proposte c'è massima flessibilità e ampia varietà Potete trovare tranquillamente la formula di gioco che si adatta meglio alla vostra lega A mio modo di vedere le cose è una delle migliori proposte disponibili per quanto riguarda il Fanta Europeo Vista anche la presenza di leghe pubbliche che permette di partecipare al Fanta Europeo A chiunque voglia giocare e magari non ha la possibilità di fare un'asta con gli amici La seconda app che vado a menzionarvi è quella di Fanta Paz Che come per lo scorso Fanta Mondiale ha deciso di proporre un'app apposita a tema Fanta Europeo È possibile utilizzarla per affrontarsi in leghe a listone ma anche in leghe ad asta E a proposito di asta, in tema di mercato è possibile comporre la propria rosa direttamente sull'app Oppure tramite le buste chiuse o con modalità asta dal vivo Dal punto di vista delle competizioni proposte è anche in questo caso massima flessibilità Potete trovare tranquillamente il torneo che più si addice alla vostra lega E come Fanta Club, Fanta Paz rappresenta una delle migliori soluzioni presenti A livello di app per giocare al Fanta Europeo Proprio perché si tratta di un'app anche in questo caso affermata sul panorama fantacalcistico nazionale E a livello di esperienza di gioco permette di confrontarvi con tutti i vari avversari In una realtà ben testata e ben affermata Un'altra app a cui potete affidarvi qualora decidiate di giocare al Fanta Europeo è Fanta Soccer Anch'essa ormai un punto di riferimento nel panorama fantacalcistico da diversi anni Rispetto alle precedenti app citate Magari ha qualche funzionalità in meno Ma può tranquillamente permettervi di giocare in leghe a listone, pubblico o private Le cosiddette maxi leghe Ma anche nelle classiche leghe con gli amici ad Asta In quest'ultimo caso è possibile effettuare su app il mercato a buste chiuse o Asta online con offerte pubbliche Anche in questo caso direi che andiamo molto sul sicuro Forse l'unico aspetto da migliorare Rappresentato dalle diverse modalità di competizioni presenti Che rispetto alle concorrenti che ho già citato Sono di meno Quarta e ultima app che vado a presentarvi oggi è Fantamatic Al pari delle precedenti Sono ormai diversi anni che permette Fante allenatori di giocare su queste competizioni estive Può essere una valida soluzione per chi decide di affrontarsi in leghe a listone o Asta Anche in modalità a busta chiusa In tema di Fante europeo è sinonimo di affidabilità Soprattutto perché consente di sfidarvi in diverse competizioni Rispetto alle tre app di cui vi ho parlato È la meno intuitiva, la meno veloce È un'applicazione che è sempre da utilizzare Ma va capito appieno il menu e le sue funzioni Ma una volta compreso il suo funzionamento Vi si può aprire davanti un mondo È possibile utilizzarla anche via browser Come le altre app del resto Ma attenzione tra sito e applicazione C'è qualche differenza in termini di funzionalità Che è comunque discreta Bene ragazzi, per questo video è tutto Terminiamo quindi questo secondo video a tema Fante europeo Vi aspetto già domani con un nuovo ed imperdibile contenuto A tema Fante europeo Stesso posto, stessa ora, vietato mancare Canale Fantavirus C'è l'Blood